salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questo girasole con il gambo grande dopo tantissime richieste che ho ricevuto è un progetto mio quindi l'ho creato l'ho modellato comunque a modo mio fra virgolette quindi vi chiedo solo gentilmente di citare la fonte qualora lo voleste realizzare anche per farmi crescere un po di più sia qui sul canale sia sulle mie pagine instagram e facebook prima di presentarvi materiali e metterci subito al lavoro vi volevo infatti ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video e seguirmi sulla mia pagina facebook la mia pagina instagram passione uncinetto e lì cercherò con delle storie dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo insieme dei sondaggi per decidere i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto ho utilizzato cotone numero 5 giallo verde e marrone l'ho lavorato con uncinetto numero 1 e 75 poi avrò bisogno fil di ferro e pinze un fil di ferro un pochino più grossetto per fare il gambo io sto utilizzando quello classificato che si usa per recinzioni però potete utilizzare anche dei bastoncini di legno comunque tutto ciò che potete utilizzare per fare un gambo e la gutta perca prendiamo il giallo e iniziamo a lavorare un petalo facciamo un cappietto che non conteremo e lo stringiamo e qui ci lavoriamo 18 catenelle fatte le nostre 18 catenelle iniziamo a lavorare nella prima catenella capiamo a disposizione entriamo lavoriamo la prima maglia bassa in tutto ne dobbiamo lavorare cinque consecutive quindi la prima l'abbiamo lavorata facciamo la seconda la terza la quarta e la quinta quindi cinque maglie basse seguite da tre mezze maglie alte quindi uno nella maglia successiva due nella maglia successiva tre poi dobbiamo lavorare cinque maglie alte consecutive quindi facciamo la prima facciamo la seconda maglia alta la terza la quarta e la quinta filo sull'uncinetto entriamo nella maglia successiva e lavoriamo una mezza maglia alta seguita da altre due quindi in tutto tre mezze maglie alte nell'ultima catenella lavoreremo tre maglie basse nella stessa catenella quindi 1 2 e 3 da quest'altra parte ripetiamo quello che abbiamo appena fatto quindi iniziamo con le mezze maglie alte 1 2 e 3 ci lavoriamo le cinque maglie alte 1 2 3 e 5 poi ci lavoriamo le tre mezze maglie alte 1 2 3 e infine le cinque maglie basse 1 2 3 4 e l'ultima 5 e abbiamo terminato il nostro petalo andiamo qui al centro guardate e facciamo una maglia bassissima tiriamo un po il filo e prendiamo il fil di ferro quindi ne prendiamo un pezzetto che ci bassi per tutto il contorno e ce ne avanzi un pochino lo tagliamo lo mettiamo in corrispondenza del lavoro così e iniziamo con la prima maglia e lo incorporiamo con le maglie basse quindi dobbiamo fare una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo nel petalo incorporando così il fil di ferro fino ad arrivare in cima dove non dobbiamo fare nessun punto aggiuntivo ma lavorare punto su punto ora lo facciamo insieme e vi faccio vedere appunto come fare qui abbiamo lavorato dobbiamo lavorare i punti per come ce li ritroviamo l'altro punto sistemiamo il fil di ferro lo pieghiamo dall'altra parte e continuiamo sempre punto su punto ad incorporare il fil di ferro fino ad arrivare alla fine arrivati qui alla fine facciamo l'ultimo punto andiamo dall'altra parte e ci chiudiamo con maglia bassissima tiriamo il filo sistemiamo il fil di ferro qui nella parte di sotto lo cominciamo ad attorcigliare facciamo un due tre giri massimo facciamo passare il filo e attorcigliamo il filo giallo lo facciamo passare all'interno continuiamo ad attorcigliare il fil di ferro e possiamo tagliare il filo possiamo tagliare anche la codina iniziale che abbiamo già lavorato e quindi fermato e abbiamo qui il petalo di questi petali ne dobbiamo fare circa 18 20 voi ne potete preparare 20 però io ad esempio qui ne ho inseriti in questo qui 18 quindi meglio averne magari uno due in più comunque noi facciamo uguale a questo quindi ne preparate 18 prendiamo i nostri 18 petali e li mettiamo da parte io li ho già preparati ora dobbiamo creare la parte centrale la parte marrone quindi prendiamo il marrone questi li mettiamo qui da parte facciamo un cerchio magico inseriamo l'uncinetto tiriamo il filo facciamo una catenella e nel cerchio magico lavoriamo sei maglie basse 1 2 3 4 5 e 6 tiriamo un po la codina e tiriamo la codina iniziale così stringiamo il cerchio entriamo direttamente nel primo punto che abbiamo fatto facendo una maglia bassa che con un marca punti andiamo a segnare nello stesso punto entriamo e ne realizziamo un'altra quindi dobbiamo fare un aumento per ogni punto 2 maglie basse nello stesso punto per ogni punto che abbiamo a disposizione quindi in tutto faremo 12 maglie basse qui facciamo le ultime due ci ritroviamo nel marcapunti lo sganciamo entriamo nel primo punto marcato e facciamo sempre una maglia bassa e la rimarchiamo ora in questo giro dobbiamo fare una maglia bassa più un aumento la prima l'abbiamo fatta e l'abbiamo marcata nel secondo punto facciamo l'aumento 2 maglie basse nello stesso punto nel punto successivo una maglia bassa nel punto seguente un aumento quindi maglia bassa un aumento fino ad arrivare alla fine del giro fino ad arrivare alla fine del giro ora stiamo arrivando insieme quindi lo facciamo insieme ricordatevi che prima del marcapunti devono esserci per forza le due maglie basse nello stesso punto quindi l'aumento e così abbiamo fatto bene la lavorazione ci rendiamo conto entriamo nella maglia marcata rifacciamo una maglia bassa la rimarchiamo e continuiamo facendo la prima l'abbiamo fatta facciamo la seconda maglia bassa e l'aumento nel punto successivo quindi 2 maglie basse più un aumento e dobbiamo continuare questa lavorazione facendo questi aumenti per ora stiamo facendo 2 maglie basse più un aumento nel giro successivo faremo 3 maglie basse più un aumento nel giro seguente 4 maglie basse più un aumento 5 maglie basse più un aumento e 6 maglie basse più un aumento ci dobbiamo fermare nel giro di 6 maglie basse più un aumento continuiamo questa lavorazione e ci rivedremo arrivati a 6 maglie basse più un aumento realizzati i nostri giri vi dico però subito quante maglie vi dovete ritrovare nei vari giri siamo partiti da 6 il giro successivo 12 il giro seguente 18 24 30 36 42 e l'ultimo giro 48 questi sono il numero delle maglie che vi dovete ritrovare alla fine ora sganciamo il marca punti entriamo nel punto lo rimarchiamo e dobbiamo cominciare a fare delle diminuzioni quindi siamo arrivati in questo giro a 6 maglie basse più un aumento ora faremo 6 maglie basse più una diminuzione la prima maglia l'abbiamo fatta facciamo la seconda la terza la quarta la quinta e la sesta entriamo nella maglia successiva prendiamo il filo entriamo in quella seguente seguente prendiamo il filo e chiudiamo insieme e abbiamo fatto la prima diminuzione ora di nuovo 6 maglie basse più una diminuzione 3 4 5 6 entriamo nella maglia prendiamo il filo entriamo in quella seguente prendiamo il filo e facciamo la diminuzione quindi continuiamo così fino ad arrivare qui alla fine qui facciamo l'ultima diminuzione sono gli ultimi due punti sganciamo il marca punti entriamo e rimarchiamo ora qui dobbiamo fare cinque maglie basse più una diminuzione comunque nel giro che abbiamo appena fatto ci ritroviamo 42 maglie ora la prima l'abbiamo fatta facciamo due tre quattro cinque è una diminuzione prendiamo il filo prendiamo l'altro punto e chiudiamo insieme quindi cinque maglie basse e una diminuzione due tre quattro cinque uno due e diminuiamo e continuiamo così fino alla fine arrivati all'ultima diminuzione prima del marca punti lo sganciamo entriamo nel punto marcato facciamo sempre una maglia bassa e la rimarchiamo ora dobbiamo fare quattro maglie basse più una diminuzione dopo tre maglie basse più una diminuzione fino ad arrivare a due maglie basse più una diminuzione quindi facciamoci questi tre giri di diminuzioni e ci rivediamo quando abbiamo in totale 24 maglie basse terminata la lavorazione siamo ho fatto l'ultimo giro due maglie basse più la diminuzione poi in totale 24 maglie sgancio il marca punti e in questo punto marcato mi vado a chiudere con maglia bassissima e abbiamo terminato la lavorazione del centro ora questa parte la dobbiamo imbottire quindi tagliamo il filo lo agganciamo così lo inseriamo all'interno della lavorazione poi prendiamo l'imbottitura e la inseriamo all'interno quindi ne inserite quanto è necessario per imbottirlo quindi farlo il più omogeneo possibile perfetto ora siamo pronti per realizzare il calice di sotto quindi la parte verde questo lo possiamo che è un'altra parte e prendiamo il cotone verde facciamo un cappietto che non contiamo perché lo stringiamo e ora lavoriamo 6 catenelle 2 3 4 5 e 6 le chiudiamo a cerchio entriamo nella prima che abbiamo fatto con maglia bassissima così abbiamo ottenuto il foro dove poi andremo ad inserire il fil di ferro una catenella filo sull'uncinetto dentro questo foro che abbiamo fatto dobbiamo realizzare otto maglie e mezze maglie alte quindi la prima l'abbiamo fatta 1 2 3 4 5 6 7 e 8 ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima quindi prendiamo il filo e lo facciamo passare in tutte e due le asoline e abbiamo fatto il primo giro continuiamo con una catenella sempre filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e realizziamo una mezza maglia alta in ogni in ogni maglia sottostante quindi ne dobbiamo fare sempre otto 6 7 e 8 ci chiudiamo sempre nella prima con maglia bassissima 7 giriamo dal dritto la lavorazione così ci deve risultare così da qui da questo momento in poi sempre rialzandoci con una catenella e rientrando con mezze maglie alte nello stesso punto iniziamo a fare i nostri aumenti quindi abbiamo fatto la prima mezza maglia alta nello stesso punto realizziamo la seconda ora dobbiamo lavorare un aumento per ogni punto che abbiamo a disposizione quindi ci dobbiamo ritrovare alla fine con 16 maglie mezze maglie alte ci chiudiamo arrivati qui alla fine nella prima maglia con maglia bassissima ci realizziamo sempre con una catenella e lavoriamo nella prima maglia una mezza maglia alta nella seconda facciamo l'aumento ora qui dobbiamo fare quindi facciamo una mezza maglia alta nel punto seguente due mezze maglie alte nello stesso punto ora qui dobbiamo rialzarci facendo gli aumenti quindi in questo caso stiamo facendo una mezza maglia alta più un aumento nel giro successivo due mezze maglie alte più un aumento quindi qui otterremo 24 mezze maglie alte nel giro successivo 32 poi faremo due mezze maglie alte tre mezze maglie alte un aumento e proseguiamo fino ad ottenere 48 mezze maglie alte quindi faremo quattro mezze maglie alte più un aumento quindi abbiamo fatti i due giri di otto mezze maglie alte qui stiamo facendo abbiamo fatto gli aumenti due mezze maglie alte nello stesso punto in questo giro una mezza maglia alta più un aumento nel giro seguente due mezze maglie alte più un aumento nel prossimo tre mezze maglie alte più un aumento e nel prossimo ancora quattro mezze maglie alte più un aumento e ci dobbiamo fermare quindi facciamoci questa lavorazione e ci rivedremo quando l'abbiamo terminata fatti i nostri giri di aumento abbiamo abbiamo fatto l'ultimo giro quattro mezze maglie alte più un aumento ci chiudiamo alla fine con maglia bassissima la prova da fare è semplice mettiamo così la lavorazione prendiamo il centro e lo inseriamo guardate il contorno è qui dalla parte fuori per quindi entra perfettamente quindi la misura è esatta ora qui dove siamo arrivati ci rialziamo con 6 catenelle o perciò 123 12345 e 6 e lavoriamo nella prima catenella facciamo una maglia bassa nella seconda una mezza maglia alta nella terza e nella quarta una maglia alta quindi due maglie alte in tutto e nella quinta una maglia alta doppia o maglia altissima contiamo 12 e ci inseriamo nella terza catenella con maglia bassissima nella terza maglia di base scusate così da qui ci rialziamo sempre con 6 catenelle e facciamo sempre la stessa lavorazione maglia bassa mezza maglia alta 2 maglie alte 12 maglia altissima saltiamo 12 entriamo nella terza con maglia bassissima quindi dobbiamo continuare a fare questa lavorazione facendo sempre le 6 catenelle lavorando lasciando due maglie di saltando due maglie di base e chiudendo con maglia bassissima nella terza maglia e continuare fino ad arrivare qui alla fine arrivati qui alla fine mi sono rimasti due maglie di base mi aggancio al primo punto che ho lavorato con maglia bassissima catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo e abbiamo creato la parte di sotto che poi nel girasole è questa questa parte qui quindi guardate la proporzione che si deve avere fra il centro e la parte sotto è questa qua ora facciamo insieme lavoriamo insieme la foglia prendiamo il cotone verde e facciamo un cappietto che non conteremo e lo stringiamo e ci lavoriamo 18 catenelle fatte le nostre 18 catenelle prendiamo un pezzetto di fil di ferro che sia piegato anche il doppio di quello che abbiamo appena lavorato lo mettiamo a fianco alla lavorazione così e inserendolo cominciamo a lavorare la prima catenella che abbiamo a disposizione che è questa qua facendo una maglia bassa nella catenella successiva facciamo un'altra maglia bassa quindi due maglie basse seguite da due mezze maglie alte una e in quella successiva due filo sull'uncinetto ora faremo due maglie alte uno e due due volte il filo sull'uncinetto ora dobbiamo lavorare cinque maglie altissime consecutive quindi uno due due tre nella prossima quattro e in quella successiva cinque cinque due due maglie alte uno e nella seguente due due mezze maglie alte uno e nella seguente facciamo la seconda ora ci restano due catenelle lavoriamo due maglie basse e siamo arrivati a lavorare le nostre catenelle ora sistemiamo il fil di ferro quindi alziamo la lavorazione e lo pieghiamo così e lo mettiamo in parallelo alla lavorazione quindi stringiamo e l'abbiamo piegato su se stesso così così riprendiamo la lavorazione lavorando nello stesso punto quindi che abbiamo appena lavorato la maglia bassa riprendiamo lo stesso punto lavorando il fil di ferro dall'altra parte e lavoriamo sempre una maglia bassa nel punto successivo oppure facciamo un'altra maglia bassa ora faremo due mezze maglie alte quindi ripeteremo quello che abbiamo lavorato nella prima parte quindi ho fatto la prima mezza maglia alta e ora faccio la seconda due maglie alte uno e due due volte filo sull'uncinetto prendiamo la costina e facciamo le maglie altissime ne dobbiamo fare cinque quindi uno due nel punto successivo tre quattro e cinque un attimino poi rifacciamo le due maglie alte le due mezze maglie alte e infine e infine le due maglie basse quindi abbiamo ripetuto quello che abbiamo fatto nel primo nella prima parte facciamo facciamo l'ultima maglia bassa ora ecco sistemiamo il fil di ferro prendiamo la lavorazione prendiamo il filo così quindi entriamo nel primo punto con maglia bassissima così da qui facciamo una catenella e nello stesso punto una mezza maglia alta ne dobbiamo fare un'altra nel punto successivo quindi due mezze maglie alte continuiamo con due maglie alte uno e in quella seguente facciamo l'altra e da questo momento dobbiamo fare sei gruppetti di due maglie alte nello stesso punto quindi facciamo il primo facciamo due maglie alte nello stesso punto abbiamo fatto il primo ora facciamo il secondo di nuovo due maglie alte nello stesso punto per la terza volta nel punto seguente sempre due maglie alte nello stesso punto per quattro volte ora ci lavoriamo la quinta volta e la sesta volta quindi abbiamo fatto sei gruppetti di due maglie alte nello stesso punto ora ci lavoriamo tre mezze maglie alte uno nel punto seguente facciamo la seconda e nel punto successivo facciamo la terza e tre maglie basse uno nel punto seguente due nel punto successivo tre un attimino che ho preso anche con la codina del filo quindi ci lavoriamo la terza tre maglie basse continuiamo da questa parte da quest'altra parte ripetendo quello che abbiamo appena fatto entriamo nel primo punto guardate che abbiamo a disposizione e facciamo la maglia bassa quindi dobbiamo fare tre maglie basse tre mezze maglie alte i sei gruppetti di due maglie alte nello stesso punto poi due maglie alte e due mezze maglie alte e abbiamo terminato così la fogliolina ci rivediamo quando arriviamo alla fine arrivati alla fine mi sono chiusa con maglia bassissima e ho attorcigliato in un pezzetto di fil di ferro il mio cotone quindi ora continuo l'ho agganciato e posso tagliare il filo tagliamo anche qui il filo di lavorazione e abbiamo terminato la nostra fogliolina se la volete fare magari volete fare diverse misure pure più grandetta potete utilizzare anche un uncinetto numero due o due e mezzo che vi verrà già più grandetta con le stesse misure quindi con le stesse catenelle e maglie che abbiamo appena lavorato abbiamo terminato tutti i pezzi del nostro girasole quindi non manca manca solo il montaggio io foglioline ne ho fatte due guardate ce li ho qui possiamo iniziare a montare il nostro girasole prima di iniziare il montaggio del fiore quindi nel nostro girasole dobbiamo fare questo lavoro 9 petali li ho lasciati con il fil di ferro 9 petali ho tagliato il fil di ferro quindi ho lasciato questo pezzetto dopodiché prendiamo la parte centrale marrone e la colla caldo e la colla caldo già riscaldata e iniziamo il montaggio prendiamo un petalo e lo dobbiamo mettere questo è rovescio e questo è il diritto dalla parte del diritto il montaggio lo dobbiamo fare l'attaccatura dei petali qui dove c'è l'ultimo giro di diminuzioni quindi nella parte dritta del petalo mettiamo un goccino di colla caldo qui qui nell'estremità più bassa mi raccomando lo giriamo e lo inseriamo così mi raccomando state attenti solo a non bruciarvi dopodiché prendiamo sempre quello col fil di ferro nella parte dritta un goccino di colla caldo qui proprio nell'estremità lo giriamo e lo inseriamo poco distante la distanza che devono avere è questa quasi attaccati continuiamo con gli altri petali mettiamo il goccino di colla caldo e continuiamo sempre così prendiamo l'altro petalo e lo inseriamo subito dopo mi raccomando mettete la colla a caldo dal dritto mano a mano che li sistemiamo il fil di ferro guardate ecco direzzatelo un pochino per sopra così non vi darà fastidio prendiamo l'altro e inseriamo anche questo quindi ne abbiamo inseriti 5 e ne mancano 4 e facciamo così anche con gli altri 4 mano a mano ecco questo ecco li drizzate così e 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 ora inseriamo l'ultimo e 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 ce l'abbiamo qua dalla parte davanti risulta così poi voi schiacciate la parte centrale e gli fate per prendere comunque una forma però però la parte davanti vi risulterà così potete ancora prima di unire gli altri spostare i petali a vostro piacimento ok per farli diciamo omogenei giriamo il lavoro e continuiamo con quelli tagliati quindi sempre dalla parte dritta inseriamo la colla a caldo giriamo e inseriamo il petalo fra i due petali che ci sono di sotto la stessa cosa facciamo con il prossimo inseriamo la colla a caldo prendiamo il petalo lo posizioniamo fra i due petali ok facciamo una pressione e l'abbiamo sistemato e continuiamo così fino a posizionarli tutti quindi questi li stiamo posizionando fra i petali dopo averli posizionati tutti possiamo girare il nostro girasole guardate e l'abbiamo posizionato abbiamo posizionato tutti i petali guardate sono tutti omogenei quindi facciamo una pressione nella parte sotto del petalo e lo alziamo così la stessa cosa facciamo per ora con tutti quelli là davanti quelli con il fil di ferro quello più lunghetto facciamo prendere comunque la forma ok e i primi sono posizionati i secondi basta l'importante fare solo una leggera pressione così per farvi capire così tutti e poi giustamente li sistemate come più vi piacciono prima di continuare ecco sistemate la parte centrale ora dobbiamo inserire la parte verde qui abbiamo fatto le catenelle iniziali però sono molto flessibili guardate come allargano quindi non dovreste avere difficoltà ad inserirle quindi iniziamo così casomai potete anche tagliarli dritti e quindi vi viene ancora meglio ok facciamo passare la parte verde così metto ecco all'incontrario si vede meglio e ora con la colla a caldo attaccheremo anche questa parte prendiamo la colla a caldo la inseriamo qua nel bordino del verde prima facciamo un pezzetto e piano piano facendo una leggera pressione lo attacchiamo io ho deciso di non mettere imbottitura in questa parte verde perché già la forma è data comunque dalla parte marrone che abbiamo fatto diciamo più lunghe e quindi la forma viene data però voi a scelta vostra potete anche mettere un pochino di imbottitura mentre che faccio questo lavoro vi ricordo che questo girasole l'ho studiato e creato quindi vi chiedo solo cortesemente di citare la fonte anche per farmi crescere un po' di più qui sul canale e sulle mie pagine questo è una cortesia che vi chiedo guardate abbiamo posizionato la parte verde e questo è il nostro girasole finito ora prendiamo la gutta perca quindi il nastro verde in alternativa potete utilizzare anche il cotone di lavorazione attorcigliato e si ossia della carta crespa sempre attaccata magari con un goccino di colla a caldo allora questo l'abbiamo inserito per venirci meglio un pochino nelle nella parte del fil di ferro ora prendiamo il bastoncino quindi questo qua che ci farà da gambo lo posizioniamo a fianco possiamo lasciare scoperto un pezzettino qua se vogliamo per dare la forma esatta al nostro girasole quindi per poterlo posizionare e qui dobbiamo prendere il nastro adesivo per attaccarlo mi ho tagliato un pezzetto ora riposizioniamo il nostro bastoncino e lo stringiamo il più possibile così prendiamo il nastro adesivo e magari passiamo più volte nello stesso punto così copriamo la parte bianca così prima di continuare dobbiamo posizionare dobbiamo posizionare le foglie quindi prendiamo la foglia la mettiamo una la possiamo mettere qui quindi questo facciamo una cosa lo tagliamo posizioniamo la foglia a questa altezza ok e la sigilliamo direttamente con il nastro verde e ora la stessa cosa faremo con l'altra tagliamo questo ora prendiamo l'altra l'altra fogliolina la posizioniamo un pochino più in sotto dall'altra parte prendiamo sempre il nastro così e lo attorcigliamo e ora ricopriamo tutto il gambo quando abbiamo finito sistemiamo le nostre foglioline ed ecco qua con il gambo il nostro girasole finito possiamo girarlo un pochino quindi potete farli sia per mantenerli dritti e sia girandoli un pochino guardate questo era quello che avevo fatto e questo è quello che abbiamo fatto insieme facciamo una pressione qui pieghiamo leggermente così solo passandoci con le mani la punta delle dei petali per fargli prendere comunque una forma simile al girasole ok e qui abbiamo i nostri girasoli terminati io spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video quindi vi ringrazio come sempre di avermi seguiti abbiamo abbiamo Grazie.